La Camera di Commercio e la Camera Penale di Cosenza hanno siglato un importante protocollo di intesa grazie al quale con un semplice clic gli avvocati potranno accedere agli atti e documenti pubblici depositati presso il registro imprese. Tutti gli avvocati che fanno parte della Camera Penale, quindi i penalisti, con un semplice clic e un solo clic in realtà possono accedere a tutte quelle informazioni della Camera di Commercio che sono atti pubblici dai bilanci alle visure allo scambio di capire se una persona fischi in quante società si trova. Questi sono tutti i dati di Infocamera, quindi della Camera di Commercio, che mettono a disposizione con questo accordo la Camera Penale della provincia di Cosenza. Oltre a questo l'accordo prevede pure di poter partecipare ai fondi sulla sicurezza, al Ministero, ai fondi europei. La Camera di Commercio continua ancora con l'istituzione avere una maggiore collaborazione perché fare rete tra le istituzioni significa tutto a vantaggio della comunità. E quindi come dire, è un ente pubblico ma deve essere pubblico. La trasparenza, la legalità non è altro che un atto dovuto, cioè non deve essere pubblicizzato, deve essere un atto dovuto. Lo ripeto ancora, siamo un ente pubblico. Tutto deve essere pubblico ma lo deve essere con i fatti. L'accordo darà agli avvocati la possibilità di accedere in tempi rapidissimi a tutte le informazioni utili sui loro assistiti e ottenere il rilascio di atti e documenti attraverso servizi telematici e posta elettronica certificata. Rende operativo un diritto costituzionale, che è quello dell'articolo 111. L'avvocato che non si difende più dal processo, ma si difende nel processo. L'avvocato che sin dal primo atto di indagine può raccogliere gli elementi utili e in favore della tesi del proprio assistito. È un'avvocatura diversa quella che stiamo cercando di portare avanti. Penso un po' alle indagini difensive e che potere che hanno per noi avvocati per entrare nelle pubbliche amministrazioni, per assumere indagini. Un'avvocatura incentrata sulla deondologia e l'etica, ancora prima che sulla procedura. E' quello che stiamo facendo con la Camera Penale di Cosenza, con il nostro Presidente, con l'avvocato Feraco, con il nostro Vice Presidente, con l'avvocato Morizzo Nucci e con i nostri 13 osservatori. Abbiamo 91 persone, 91 avvocati, giovani avvocati, che si distinguono in 13 osservatori e si ripartiscono in 13 osservatori. E oggi abbiamo infatti due osservatori. Se oggi c'è questa giornata, direi grazie ovviamente al Presidente della Camera di Commercio. Questi due osservatori sono gli osservatori rapporto con le istituzioni. E' l'osservatore indagini difensive, l'avvocato Rosapane e l'avvocatessa Carricato, che hanno consentito di accedere più facilmente. E' un momento di riflessione per noi avvocati, all'indomani, di quella che è la riforma sulla giustizia. Contrariati per quello che è stato il voto di fiducia su una riforma della giustizia che non può trovare accesso mediando un voto di fiducia. Continuiamo però a lottare. Continuiamo a lottare ma non per noi. Pensi un po' che tutte le manifestazioni che abbiamo fatto non sono fatte per non lavorare. Anzi, in quel modo viene meno il nostro lavoro. Sono fatte a garanzia di tutti i nostri assistiti. E se oggi siamo qua, ringraziamo il presidente Claudio Salgeri, ma se siamo qua è per i nostri assistiti. Questa è la forza dell'avvocatura che dicevo prima, deontologia ed etica. La forza dell'avvocatura è che non siamo qua per difendere prerogative nostre, professionali, ma siamo qua per garantire il diritto di difesa dei nostri assistiti. La singola impresa che rispetta le regole in realtà ha tutto un vantaggio. La Camera Penale significa che loro possano accedere a delle informazioni per quanto riguarda le loro cose sulla giustizia. In un modo abbastanza semplice ma in tempi brevissimi. Il protocollo di intesa con la Camera Penale rappresenta un ulteriore passo in avanti dell'ente camerale Cosentino nella costruzione di utili ed efficaci rapporti diplomatici e operativi tra pubblico e privato. Un esempio virtuoso di rete tra le diverse istituzioni. Le istituzioni devono potersi parlare tra di loro, devono poter fare rete tra di loro. Se così in realtà facciamo un po' tutti chi rappresenta un'istituzione pubblica, in realtà si fa sinergia. Quindi come dire, la spesa l'abbiamo sostenuta noi ma abbiamo dato un servizio al territorio. Noi pensiamo di dare un servizio al territorio, non è che in realtà la singola ebrese possa avere un vantaggio con l'accordo di oggi. Però in realtà è un ente pubblico che deve stare sul territorio. Open Camera, l'abbiamo sempre detto, ma lo dobbiamo fare con i fatti. Per questo ho detto tutto ciò che è pubblico, deve essere pubblico. La Camera di Commercio di Cosenza, sempre più in modalità Open, si conferma Palazzo di Vetro, in grado di siglare accordi profigui e vantaggiosi. Il prossimo step sarà un protocollo d'intesa con l'ispettorato del lavoro.